Buongiorno, sono Biba Giacchetti, la curatrice della mostra di Aglio Terwitt, anche io collegata da casa come tutti in questo periodo e ho accettato molto volentieri l'invito del MUDEC di raccontare un po' i temi della mostra che era aperta quando siamo stati sorpresi da questa emergenza e quindi sono qui con voi, per fortuna abbiamo questo magnifico catalogo che ci racconta già molto bene tutte le immagini che sono in mostra. Sono a vostra disposizione, se voi avrete delle domande che vorrete farci, se vorrete approfondire degli argomenti specifici, io sarò pronta a rispondervi. Intanto, come abbiamo concepito questa mostra con Aglio? Io sono volata l'anno scorso dieci giorni a New York con lui e abbiamo fatto questa selezione che voleva essere una selezione di fotografie poco convenzionali che raccontavano il mondo della famiglia in tutte le sue sfaccettature e con il linguaggio ironico, romantico, assolutamente unico di questo grandissimo fotografo. Nei prossimi collegamenti voglio raccontarvi, voglio fare degli approfondimenti su delle singole immagini, però mi aspetto appunto che siate anche voi, che facciate delle domande alle quali io avrò un grandissimo piacere di rispondere. Quindi al prossimo ancora.